Cittadinanza facile per i figli degli immigrati a cui la Lega è assolutamente contraria. A 18 anni, se vuoi, come vuoi e quando vuoi, chiedi la cittadinanza. Cittadinanza facile che anticipa il diritto di voto, come molti esponenti della sinistra stanno dicendo. A noi piacerebbe che in Italia si aprisse un altro fronte di discussione invece sul diritto di voto, piuttosto che regalare il diritto di voto agli immigrati. Ci sono diversi paesi europei che anticipano a 16 anni il diritto di voto per i loro cittadini. Penso all'Austria, penso ad alcuni cantoni svizzere, alcuni land tedeschi. Penso a Serbia, Bosnia, Montenegro, Ungheria, questo per rimanere in Europa. Penso a Argentina, Cuba, Ecuador, Nicaragua ed altre realtà in giro per il mondo. Penso alla Scozia che ha fatto votare per il referendum sull'indipendenza anche i ragazzi di 16 e 17 anni. Quindi mi piacerebbe che in Italia si coinvolgesse questa parte di popolazione, quindi piuttosto che regalare il diritto di voto a qualcuno che l'Italia conosce poco e niente, coinvolgere ragazzi e ragazze dai 16 anni in su, dando loro diritto di voto anche in occasione di elezioni politiche. Occorre una modifica della Costituzione, visto che la Costituzione è in corso ogni modifica, perché non aggiungere anche questo passo in avanti verso la democrazia dal nostro punto di vista. Quindi ci piacebbe che l'Aula, oltre che parlare di diritti per gli altri, pensasse anche a estensioni di diritti costituzionali per cittadini italiani che ad oggi ne sono esclusi.